Questo video riguarda i migliori tre gommoni gonfiabili. Il vincitore della qualità è il Bestway Hydroforce. Bestway Canotto Gonfiabile Il canotto gonfiabile della linea Hydroforce è stato progettato pensando all'avventura all'aria aperta. Il set comprende due remi da 1,24 metri e una pompa a pedale. Il canotto è dotato di valvole a vite per gonfiaggio-sgonfiaggio rapido che forniscono un modo semplice per gonfiarlo quando si è pronti a salpare. Realizzata in robusto vinile per testato e con tre camere d'aria per fornire una galleggiabilità extra. E' presente una funetata intorno con gommini integrati per rendere più facile l'attacco al molo. Il pavimento gonfiabile offre un comfort extra durante la tua avventura. Gli anelli di tenuta del supporto motore sono inclusi. La maniglia resistente e l'anello di traino rendono il trasporto del canotto semplice e facile. Il canotto è dotato di robusti scalmi e fermagli per remi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Intex materasso gonfiabile. Trova un'area pulita priva di pietre o altri oggetti taglienti. Pressione di esercizio di progettazione del prodotto 0,03 bar.3 Gli adulti devono gonfiare lentamente ogni camera in ordine numerato utilizzando una pompa d'aria a pedale o manuale. Assicurati che il dispositivo sia solido ma non duro al tatto. Attenzione per evitare lo scoppio, non gonfiare eccessivamente o utilizzare un compressore d'aria ad alta pressione, né superare la pressione di esercizio consigliata. Riempi solo con aria fredda. Chiudere e immergere saldamente tutte le valvole di riempimento. Assicurarsi che durante l'uso venga mantenuta una pressione dell'aria adeguata nel prodotto. Controllate frequentemente la pressione, soprattutto nelle giornate molto calde e soleggiate, poiché l'aria all'interno del prodotto si espande. Il vincitore del premio è il Bestway cavalcabile. Lo struzzo gonfiabile della linea Art Collection è perfetto per la tua giornata al mare o in piscina. Dotato di simpatici dettagli e colori accattivanti, il cavalcabile Bestway si gonfia facilmente con una pompa elettrica e può ospitare un adulto di massimo 90 kg. Per un'estate da favola non c'è niente di meglio che uno struzzo gonfiabile. Pensato per il divertimento di grandi e piccini, è perfetto per gli aperitivi a bordo piscina o in riva al mare. Grafica colorata e accattivante che riprende lo stile della Pop Articolo. Solide e resistenti per mantenersi più facilmente. Concept ottimo e fashion, strutture e rifiniture ben definite. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.